musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ci siamo il momento della patch 7.20 è arrivato e sarà ragazzi davvero una patch incredibile con un sacco di nuove cose inserite nel video di oggi ragazzi voglio vederle proprio insieme a voi e dirvele in modo che non vi sbattete per leggerle tutte ragazzi partiamo ovviamente subito dalla primissima cosa importante che come tutti sapete è stata già mostrata qualche giorno fa stiamo parlando ragazzi ovviamente della pistola con il mirino niente fucile di precisione nessun problema usa il nuovo revolver con mirino per sparare colpi infallibili contro i nemici quindi ragazzi staremo a vederla ovviamente insieme non appena saranno disponibili nuovamente i server una nuova revolver che assomiglia molto a una deagle ma con sopra un mirino montato 2x che fa davvero brutto ma un'altra ragazzi implementazione interessantissima riguarda proprio i deltaplani c'è la possibilità di un ri rischieramento dei deltaplani spalanca le ali il ri rischieramento di deltaplani è tornato questa volta però ragazzi sarà come oggetto troverai le cariche nel bottino della mappa quindi ragazzi troveremo delle ricariche per poter riaprire sembrerebbe fino a 10 volte il deltaplano durante la sessione di gioco arriverà ragazzi anche la modalità tempo limitato il colpo secco dove la gravità come sapete è ridotta e ci sono solamente 50 punti salute per ogni avversario per ogni giocatore quindi ragazzi attenzione a colpire bene i nostri avversari passiamo ragazzi appunto nelle statistiche relativi alle armi agli oggetti la revolver con il mirino sarà come avevamo già detto disponibile solo in versione epica e leggendaria utilizzerà delle munizioni medie il danno della versione epica è 42 44 quello della leggendaria la troveremo ovviamente nel bottino a terra nei forzieri negli airdrop e anche nei distributori automatici per quello che riguarda invece l'oggetto dei deltaplani occuperà come vi ho detto uno slot nell'inventario e lo troveremo normalmente nei chest dove troviamo il bottino come al solito non è necessario selezionare il deltaplano per schierarlo quindi ragazzi basta solamente che lo attivate premendo il tasto del salto quando stiamo a mezz'aria sarà come rarità raro e avrà come avevo anticipato 10 cariche ragazzi quando finiscono le cariche l'oggetto viene automaticamente rimosso hanno anche fatto delle modifiche alle mitragliatrici hanno aggiunto una meccanica di surriscaldamento che si verifica dopo 6 secondi probabilmente stiamo parlando della minigun ragazzi un po come la torretta verrà diminuito il tempo di a no 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 attenzione delle mitragliatrici normali sembrerebbe perché il tempo di ricarica è stato diminuito del 37 per cento e hanno aggiunto anche un audio hanno aggiornato anche l'audio della mitragliatrice hanno modificato anche la rarità dei palloncini ragazzi che da epici sono diventati rari la fialetta puzzolente è diventata rara e il fucile d'assalto col mirino è stato diminuito da epico a raro e da non comune a raro da raro a epico e da non comune a raro quindi ragazzi modifiche anche sulla cog hanno modificato anche la traiettoria del proiettile per le seguenti armi il bolt action il fucile di precisione silenziato il semi automatico e il fucile da caccia dovrebbe essere molto più preciso la precisione del primo colpo dell'arma funziona anche con i piedi congelati o con la zipline quindi ragazzi più precisi i fucili da cecchino hanno ridotto il punto centrale del reticolo quando utilizziamo il mirino in modo che modifica questo riduce la situazione in cui ci sembra che sia sbagliato il colpo ma in realtà va a segno quindi più preciso riuscire a sparare con i fucili da cecchino hanno modificato anche il drop rate delle trappole hanno aumentato la possibilità di trovare le trappole nel bottino a terra dal 3,98 per cento al 4,73 per cento aumentato anche il fallo da 0 26 a 0 73 e di trovarlo nella ma da 6 e 63 per cento a 15 e 47 hanno rimesso sembrerebbe la piattaforma di lancio dove si può adesso ce l'hanno rimesso hanno aumentato la possibilità anche della jump da 0 53 a 0 98 e nei lama da 13 e 25 a 20 e 77 quindi molto più facile recuperarla hanno anche fatto delle correzioni ovviamente importanti ai bug ragazzi hanno risolto un problema che ci faceva perdere la capacità di cambiare arma se lanciavamo un rampino mentre ci schiantavamo contro un veicolo o un oggetto quindi ragazzi migliorato anche il rampino hanno anche migliorato la velocità di quando prendiamo in mano un'arma dopo che abbiamo sparato con il rampino in modo da non perdere tempo hanno rimosso la capacità dove si poteva cavalcare o si poteva essere spinti da un rampino quando i giocatori lo utilizzavano quindi molte modifiche sul rampino ragazzi risolto il problema anche dei palloncini alcune volte non scoppiavano quando gli si sparava invece adesso colpendo i palloncini scoppiano immediatamente quando un giocatore muore per danni di dissanguamento quindi quando non riusciamo a ressare uno dei nostri compagni di squadra la distanza di eliminazione verrà calcolata dalla posizione originale in cui è stato atterrato invece che dal momento dell'eliminazione questo per quelli che guardano un po è la distanza dei loro colpi hanno risolto un problema dove il punto centrale del reticolo quando utilizziamo il mirino non si allineava con il punto centrale senza mirino a me non è mai capitato i deltaplani e gli ombrelli non appaiono più ruotati ok non c'è più il problema di quando vedi la gente che scende dal bus con deltaplani e ombrelli che giravano i giocatori non riceveranno più una feed senza mirino se usano un mirino per il linee non giocatore questo non so bene cosa voglia dire hanno migliorato la zipline ragazzi hanno aggiunto la capacità di cambiare la direzione durante il movimento sulla zipline tramite i comandi del movimento quindi col was in poche parole prechiusa la tastiera basta semplicemente muoversi nella direzione in cui si vuole andare e la zipline automaticamente si muove così non si muoverà subito alla massima velocità la zipline non appena ci saliamo ma si accelererà pian piano che rimaniamo sulla funivia hanno anche aggiunto una terza cifra decimale per la sensibilità del mouse e il controller in modo che si potrà migliorare ancora di più la precisione quindi andremo fino al millesimo incredibile ragazzi hanno modificato la sensibilità del gamepad l'hanno sistemata la modifica della sensibilità della costruzione si applica anche alla modalità modifica scusatemi quindi anche col gamepad molto meglio la cosa la modifica non interrompe più il fuoco con le armi e con il piccone e finalmente le pannocchie di mice non bloccano più gli spari c'erano problemi ragazzi che sono le pannocchie che ci salvavano la vita ecco adesso non succede più ragazzi hanno modificato i danni da impatto ad un giocatore che durante con il veicolo ovviamente do quindi do quindi quando adesso andiamo a sbattere o facciamo un danno da impatto ci toglie prima lo scudo e poi la salute ci sta quando un aereo esplode per qualsiasi motivo inflisce danni a passeggeri e piloti e questi danni non ignorano più gli scudi probabilmente come come vi ho detto prendiamo danno prima lo scudo e poi alla salute hanno modificato anche i passeggeri dell'x4 quindi che hanno la stessa funzionalità di chi guida tutti avremo il tasto tieni premuto per uscire hanno modificato un sacco di bug rischiaramento di deltaplani quando si usciva dall'aeroplano che non funzionava hanno modificato la lunghezza dell'anteprima su molte no mot nella lobby quindi potrebbero essere un po più lunghe hanno modificato un sacco di bug con la zipline e hanno modificato anche un bug dove la quantità di danni ottenuti sparando alle torrette montate viene mostrato con il colore giusto quindi con il giallo invece invece che con il bianco per quello che riguarda anche ragazzi tornei hanno modificato delle cose i sistemi dei tornei sono stati sottoposti a degli aggiornamenti in modo che verranno migliorati e supporteranno le nuove funzioni che stanno per arrivare probabilmente molti tornei verranno rimossi appunto per aggiornarli e poi verranno reinseriti i giocatori verranno automaticamente rimossi dalla partita dopo 60 secondi trascorsi come spettatori dopo essere stati eliminati quindi non potremo più vedere per intero il torneo un sacco di modifiche anche per la grafica e dell'animazione quindi moltissime emot aggiornato hanno modificato anche il problema che c'era che non riusciamo a inviare tramite social i nostri amici e hanno anche fatto delle modifiche sulla modalità creativa ragazzi per quello che riguarda la modalità creativa hanno messo un nuovo tema che dovrebbe essere se non ricordo male la fattoria esatto ragazzi quindi nuovo tema dove possiamo sbizzarrirci nella modalità creativa hanno aggiunto le nuove isole dove c'è la fortezza di ghiaccio hanno risolto una valanga di bug relativi a quando non funzionava bene la modalità creativa e hanno anche ragazzi veramente fatto un sacco un sacco di lavori e per quanto riguarda salva al mondo hanno aggiunto il re dei ghiacci e la regina dei ghiacci che potrebbe essere anche una delle nuove skin che arriverà sul battle royale beh ragazzi che dire io vi ho fatto una bella infarinatura di tutti gli aggiornamenti che ci sono con questa patch ovviamente per scoprirli a pieno vi conviene giocare spero che vi sia piaciuto il mio video mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 ciao